Anche quest'anno la Corsa Campestre ha avuto la sua location privilegiata al Parco di Montelungo. Che bilancio è quello di quest'anno? Ma direi favoloso, eccezionale, ancora qualche altro aggettivo lo aggiungerei. Però siamo alla settima edizione del Cross di Primavera. Oltre 800 bambini partecipanti, accompagnati dai rispettivi genitori, insegnanti e spettatori, nonni, zii, insomma, che sono venuti qui a trascorrere il primo giorno di primavera, il 21 marzo, primo giorno di primavera, a vedere i colori della natura e a sentire i suoni degli animali che si risvegliano, sicuramente è un bilancio non che positivo di più. Portare qui centinaia di bambini e le scolaresche a vivere questa giornata è emozionante, soprattutto per la valorizzazione di questo sito e di questo parco urbano. Finalmente possiamo tirare le somme e speriamo che l'amministrazione comunale percepisca questi messaggi, ma non solo da parte della Green Sport, ma di tutta la cittadinanza che è venuta qui a trascorrere questa giornata. Il Corpo Forestale, Emilio Giudice, Lago Biviere, Croce Rossa, tutti si sono prodigati per la sicurezza, il divertimento e la valorizzazione della natura e soprattutto per la Green Sport che ancora crede e combatte su questi valori. Oggi dunque vince lo sport e il rispetto della natura? Vince lo sport e vincono gli alberi che abbiamo donato ai bambini che porteranno a casa, orgogliosi, che pianteranno anche a scuola perché abbiamo premiato anche le scuole con gli alberi. Insomma, la voglia di avere del verde sempre di più in una città martoriata dall'inquinamento e speriamo che con questi alberi lanciamo un messaggio forte di vita e di crescita. Grazie a tutti.